Genere letterario, questo sconosciuto. Di tanto in tanto mi capita di sentire in rete qualche insegnante di scrittura creativa a sostenere che, per esempio, il genere letterario non esiste. O meglio, che il genere letterario esista soltanto per motivi di marketing, oppure che il genere letterario esista soltanto per i lettori. Ma dunque, dove sta la verità? Esiste il genere letterario? E se esiste, qual è la sua principale funzione? Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Valenza, scrittore e filosofo. Bentornati sul mio canale Narrazioni e Vita. Prima di affrontare questa importante questione, seppur in maniera molto superficiale e introduttiva, vi chiedo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete già fatto, e di cliccare sulla campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornati sulle prossime novità che riguarderanno Albero del Mistero e i corsi di scrittura. Iscrivetevi, se volete, anche alla mailing list che trovate in calce a questo video, oppure visitando il sito alberodelmistero.com che attualmente è in costruzione, li troverete un link, nome, cognome e indirizzo mail, più che sufficienti al momento per mantenervi sempre aggiornati sulle novità che di volta in volta proporrò relative per l'appunto alla scrittura, alla filosofia e ai libri. Ma adesso torniamo al nostro argomento. Dunque, i generi letterari, che cosa sono? Ma effettivamente sono utili, sono necessari? Quando si scrive un romanzo, una storia, un racconto, è fondamentale attenersi al genere letterario? E quindi quale tipo di consapevolezza bisogna averne? Molte domande alle quali non è mai troppo facile rispondere per quale motivo. Perché in realtà il concetto di genere letterario è un concetto che è per lo più sfuggente, perché nasce da una necessità di classificazione. Con è che si parla di genere letterario? Se ne parla nel momento in cui noi vogliamo far rientrare una scrittura, soprattutto una lettura, un qualche cosa che noi stiamo analizzando a livello di scrittura, oppure anche a livello di narrazione orale, la vogliamo far rientrare in una specifica comprensione, in una specifica tipologia di comprensione della narrazione. E quindi allora incominciamo a distinguere, per esempio, tra genere poetico, tra genere di prosa, tra genere di teatro. Oppure incominciamo a distinguere tra all'interno della prosa, tra genere romanzesco, tra genere del racconto, oppure all'interno del romanzo, tra i vari generi tematici, e dunque il genere realistico, il genere fantastico, il genere giallo, il genere thriller, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, distinguere tra un genere e l'altro ha innanzitutto una funzione di comprensione della tematica, ma soltanto nel momento in cui ne abbiamo un qualche bisogno analitico, cioè quando è che noi potremmo avere bisogno di comprendere a quale genere appartenga una narrazione. Per esempio, nel momento in cui siamo degli studiosi e vogliamo provare a identificare quali sono le caratteristiche comuni tra una serie di scritti che ci sembrano appartenere allo stesso ambito tematico. Per esempio, se io prendo e metto insieme la Divina Commedia, la Gerusalemme Liberata, l'Orlando Furioso, il Signore degli Anelli e, non so, ipotizziamo il ciclo della fondazione di Asimov, oppure Dune, quali sono le caratteristiche che accomunano questi racconti, queste narrazioni? Allora, nel momento in cui io mi metto ad analizzare i singoli libri, questi singoli racconti, queste singole storie, incomincio ad individuare delle caratteristiche che li legano tra di loro. Tuttavia, incomincio a rendermi conto anche delle differenze che li segnalano all'occhio attento, perché, per esempio, una Divina Commedia avrà un intento differente rispetto ad un Orlando Furioso, così come una Gerusalemme Liberata e un Orlando Furioso avranno un intento differente rispetto ad un Signore degli Anelli. E poi, Divina Commedia, Orlando Furioso, Gerusalemme Liberata, Signore degli Anelli, avranno un approccio differente rispetto al ciclo della fondazione di Asimov oppure a Dune di Herbert. Ma dunque, il genere letterario possiamo dire che serva a identificare e a creare dei raggruppamenti sulla base tematica oppure formale dei singoli scritti. Ma detto questo, allora, a cosa può servire identificare un genere letterario? Da qui nasce l'idea, secondo alcuni, che il genere letterario in realtà non esista, o che meglio, esista soltanto per il mercato oppure soltanto per il lettore. Per quale motivo si dice questo? Perché nel momento in cui tu devi vendere un libro lo devi poter inserire in una determinata nicchia all'interno del negozio e quindi in un determinato scaffale all'interno di una determinata libreria. Oppure, se lo vendi online, devi poterlo raggruppare in modo che sia rintracciabile facilmente anche senza conoscere il titolo del libro e quindi magari una determinata collocazione a livello di etichetta, per esempio, fantasy, thriller, giallo, storico, potrà, oppure poesia, teatro moderno, teatro contemporaneo, teatro rinascimentale, ti permetterà di trovare tutti i titoli che vengono ritenuti appartenere a quella determinata categoria. E dunque ha uno scopo, avrebbe uno scopo commerciale, uno scopo di marketing, da un lato per poter ritracciare più facilmente e quindi vendere anche più facilmente i titoli che appartengono a quella determinata nicchia, d'altro canto anche per poter produrre dei titoli che possano rientrare in una nicchia che si vuole spingere. Dunque ecco che alcuni generi possono andare di più in un periodo piuttosto che in un altro, oppure in un determinato periodo, in una determinata temperia storica, può essere più, può essere ritenuto più interessante spingere alcuni generi piuttosto che altri. Si veda per esempio all'inizio del Novecento cosa successe in Italia quando si ritenne come, per motivi del tutto diciamo così culturali insomma di temperia storica, si ritenne più importante mettere in evidenza il ruolo delle narrazioni realistiche, sebbene ci fossero, esistessero anche a inizio del Novecento in Italia, narrazioni di tipo fantastico, una su tutta per esempio le narrazioni di Montempelli. Eppure per determinati motivi, a partire soprattutto da metà Ottocento fino a metà Novecento, si ritenne in Italia che il genere più importante, più significativo e più degno di attenzione fosse quello realistico. Dalla seconda metà del Novecento in poi le cose iniziarono a cambiare, soprattutto poi negli ultimi decenni, a partire dagli anni Settanta, Ottanta in poi, anche in Italia si è diffuso sempre di più insieme dei vari generi fantastici, per cui anche questi generi vengono ritenuti comunque significativi per il mercato editoriale. Attenzione, questo non significa che vengano ritenuti significativi per il mercato culturale, perché da un punto di vista culturale è soltanto negli ultimi 15 o 20 anni che si inizia a rivalutare effettivamente la portata e l'importanza della narrativa fantastica all'interno dei generi letterari complessivi. Questo soltanto per fare un esempio di come dunque l'importanza a livello di marketing dei generi letterari possa incidere sulla prima linea di quei generi che vengono ritenuti effettivamente quelli da spingere, quelli che stanno al primo posto rispetto ad altri che invece vengono ritenuti di secondo o di terzo piano addirittura. Però poi c'è un altro pensiero che è molto diffuso e cioè che il genere letterario possa servire principalmente al lettore. Per quale motivo? Perché il lettore dovrebbe sapere, secondo Costoro che sostengono quest'idea, dovrebbe capire in anticipo a quale genere appartenga la lettura che stanno per affrontare. Come se il lettore fosse principalmente portato oppure fosse sensato che un lettore voglia dedicarsi soprattutto a letture che appartengano a determinate tematiche oppure a determinati filoni tipo quello realistico piuttosto che quello fantastico. Ecco, approcci dunque che io personalmente trovo piuttosto assurdi. Per quale motivo? Perché se l'approccio mercatista e quindi quello legato al marketing e dunque alla collocazione imprenditoriale, mettiamola così, mercantile del genere letterario del libro all'interno dei generi può avere il suo significato in virtù appunto della possibilità di vendere i libri, tuttavia quello che invece fa riferimento al lettore come principale agente di definizione dell'importanza dei generi letterari lo trovo veramente assurdo, perché il lettore in realtà certamente sarà portato per determinati generi piuttosto che per altri. Tuttavia il lettore, quello che penso io che dovrebbe essere aperto a confrontarsi con qualsiasi tipo di lettura, per un semplice motivo, perché in realtà il nostro mondo l'esistenza, l'esperienza dell'esistente e del reale è multistratificata. La realtà non è mai appiattita su quello che noi potremmo chiamare a livello di generi letterari il genere letterario oppure il mainstream come viene chiamato oggi. Quello è in sé un genere letterario, cioè quel genere letterario che elimina ogni riferimento al sovrannaturale oppure ad ogni significato simbolico che vada oltre, quindi metta da parte tutto ciò che è soprannaturale, tutto ciò che è divino, tutto ciò che è riferimento al sacro, tutto ciò che è una possibile ulteriore lettura di una realtà che sopravvanza rispetto a quella che noi abbiamo di fronte agli occhi giorno dopo giorno. Un lettore io credo debba essere in grado di misurarsi con tutta l'ampiezza del reale, per quale motivo? Perché io credo che l'essere umano possa diventare attraverso la lettura sempre più completo e che accedendo dunque ad una lettura che affronta la realtà sotto tutti i suoi aspetti possa in qualche modo aprire gli occhi sulla profondità del reale. Ma questo discorso ci porterebbe molto lontani, no? E quindi ritorniamo un attimo all'argomento di cui stavamo parlando, cioè il genere letterario. Allora, cosa penso io che sia il genere letterario e soprattutto quale penso sia l'utilità del genere letterario? Io credo che tutto sommato il genere letterario sia utile innanzitutto allo scrittore. Adesso vi spiego perché. Allo scrittore che però si pone nell'ottica di far leggere il suo testo a dei lettori. Quindi non bisogna innanzitutto scendere questo binomio. Scrittore, lettore. Il lettore scrive sempre per qualcuno il vero scrittore, perché altrimenti è semplicemente uno scrittore diaristico, uno scribacchino, uno scrittore direttante, qualcuno che vuole scrivere le cose per sé oppure per i propri cari. Ma chi voglia scrivere qualche cosa per poi proporlo al pubblico dei lettori, che è in sé mercato, ricordiamocelo sempre, in realtà si mette in dialogo con questi lettori, sebbene non li conosca. Allora, per mettersi in dialogo con i suoi lettori deve innanzitutto comprendere a quali lettori si stia rivolgendo, perché non esiste scrittore che si rivolga a tutti i lettori. Ogni scrittore ha la sua platea di lettori, ha la sua platea di pubblico. Dunque, una delle cose importanti che deve fare uno scrittore che voglia diventare professionale è comprendere a quale tipo di pubblico si stia rivolgendo il suo scritto. Possibilmente dovrebbe capire quale sia il suo tipo di pubblico ben prima di iniziare a scrivere. Addirittura uno scrittore dovrebbe avere più o meno chiaro quale sia il suo pubblico, indipendentemente dai testi che sta scrivendo, perché comunque anche il suo stile personale, il suo modo di raccontare il mondo, il suo modo di narrare le cose, sarà strettamente legato ad una determinata visione del mondo. Ma questa visione del mondo non andrà bene a tutti. Andrà bene ad alcuni e ad altri no. Ed è proprio qui che si inserisce il discorso del genere letterario collegando lo scrittore ai suoi lettori. Dunque ci vuole consapevolezza. Lo scrittore deve avere consapevolezza di quale sia il suo pubblico di riferimento. Ma questo in cosa si traduce concretamente? Si traduce nel sapere anche che cosa si sta scrivendo. Allora, cosa si sta scrivendo? Per esempio, io potrei dirvi di sapere con grande certezza che la mia scrittura è narrativamente caratterizzata da un certo utilizzo degli elementi fantastici e simbolici, che però variano da una fantasia marcata addirittura con riferimenti ad un mondo secondario, come può essere per esempio il fantasy oppure un certo tipo di horror, fino ad una fantasia che in realtà viene veicolata soprattutto attraverso il simbolismo che si fa sempre più evidente all'interno dell'esperienza dei protagonisti delle mie storie e quindi quello che potremmo chiamare per esempio un thriller soprannaturale. Quindi con alcuni leggeri riferimenti ad una realtà altra oppure ad un simbolismo piuttosto marcato, senza che ci sia però riferimento ad un mondo secondario. Io so che questo è il range delle mie narrazioni. Allora, questo mi permette di volta in volta, man mano che scrivo le mie storie, di romanzo in romanzo, mi permette di focalizzare la mia attenzione su un determinato tipo di pubblico. Ma a cosa mi serve focalizzare la mia attenzione su quel determinato tipo di pubblico? Mi serve a proporre gli argomenti e le tematiche secondo determinati approcci che so potranno soddisfare le aspettative dei lettori. Per quale motivo? Perché il lettore che si mette a leggere un romanzo fantastico? Si aspetta come minimo, per esempio, per fare soltanto un esempio, si aspetta come minimo che la storia non racconti della realtà prosastica alla quale siamo quotidianamente abituati. E dunque si aspetterà che ad un certo punto ci sia un passaggio ad un livello ulteriore della realtà, un livello che noi non vediamo normalmente o che magari possiamo soltanto immaginare o percepire in situazioni particolari della nostra esistenza. Ecco che allora la mia narrazione di genere fantastico, che rientra nel grande alveo del genere fantastico, può soddisfare una aspettativa di questo tipo di pubblico. Poi, in modo particolare, se sto proponendo, per esempio, Storia di Gheshwa che è un romanzo fantasy, io so che ci saranno tutta una serie di aspettative che il mio lettore attenderà di vedere soddisfatte. Per esempio, la presenza di razze differenti dall'essere umano, di specie, di creature esistenti da quelle dell'essere umano oppure da quelle conosciute sulla Terra. E quindi magari ci saranno, sempre per fare i tipici, classici esempi, del fantasy. Ci saranno gli elfi, ci saranno i nani, gli gnomi, ci saranno altre creature, i troll, gli orchi, i goblin, eccetera, le fate, i fantasmi. Metteteci quello che volete voi. Ma sapendo che propongo un certo tipo di storia, devo anche sapere che il mio lettore si aspetterà un certo tipo di mondo, un certo tipo di narrazione e di presenza immaginifica. Questo cosa significa allora? Significa che io devo mettere dentro la mia storia tutto ciò che si aspetta il lettore? Assolutamente no. Assolutamente no, perché il mio obiettivo deve essere sempre quello di stupire il lettore con delle trovate narrative che siano originali. All'interno del corso che vi proporrò da questo autunno in poi, che probabilmente si intitolerà Il mistero della scrittura, vi spiegherò anche in che modo rendere sempre originali le vostre narrazioni, anche nel momento in cui, come sempre accade, ci si rifaccia ai topoi, cioè ai tropi, e quindi a quegli elementi narrativi che fanno riferimento a delle situazioni che ormai sono diffuse in tutte le narrazioni di quella tipologia specifica, che facilmente diventano cliché. Nel momento in cui vengono proposti sempre allo stesso modo e con nulla di nuovo al loro interno, secondo una prospettiva ormai usuale, diventano cliché. E il lettore si stufa di leggere i cliché. Quindi all'interno del mio corso vi spiegherò quale sarà la modalità per rendere sempre nuovi i topoi, i tropi letterari narrativi, le convenzioni dei generi in modo da rivitalizzarle e da rendere la vostra narrazione unica. Ecco, dunque il genere letterario serve al lettore e allo scrittore in questa accezione, perché in realtà permette allo scrittore di rivolgersi ai suoi lettori secondo le aspettative dei lettori, che però vengono rivitalizzate attraverso l'originalità dello scrittore. Ecco, vi ho detto la mia sul genere letterario. Ovviamente questo non era un approfondimento totale, pieno e onnicomprensivo del genere letterario. Ci sarebbero moltissime cose da dire, ma in rete veramente si trova molto sull'argomento se non si vuole accedere direttamente a dei libri acquistati specifici. Detto questo non mi rimane che chiedervi di mettere mi piace a questo video se è stato di vostro gradimento, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, ve lo ricordo ancora una volta, magari anche iscrivendovi alla Made in List di alberodelmistero.com. Detto questo ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!